Simone Feuoli, faccio un po' da pubblico ministero, sabato scorso squadra che non ha giocato al massimo, poche responsabilità, difesa che ha fatto qualche errore di troppo, qualche passaggio sbagliato, a lei la difesa della squadra? Ma intanto la difesa inizia dall'attacco, questo mi hanno insegnato il primo allenatore che è stato Massimo Serpa, anzi Sandro Bisa, e l'ultimo Fritz Denner, Marcello Del Duca, ha sempre insegnato questo, la difesa inizia dall'attacco, cioè in attacco si prepara la difesa, i tre secondi finali dell'attacco ti danno la possibilità di tornare in difesa e preparare quello che devi fare. La realtà vera è che abbiamo sbagliato troppo in attacco sull'ultimo passaggio, sulle conclusioni, c'è avvenuto il cosiddetto braccio del tennista. Adesso in casa SNC si parlerà non più di pallannuoto ma soprattutto di cose extrasportive, di economia per l'organizzazione della prossima stagione? Un avvocato ce l'abbiamo, un imprenditore c'è, un manager come Giacomelli ce l'abbiamo, un ottavio, un commercialista, forse sì, ci serve un commercialista. Per poter parlare di economia, no, al di là delle battute, credo che non sia la cosa principale. La prima cosa sono i ragazzi che ancora devono finire le attività, abbiamo l'Under 20 con il Tirrina, abbiamo il sincronizzato che deve finire l'attività, i giovani, c'è la rappresentazione regionale dove abbiamo quattro convocati con l'Under 13, un convocato con l'Under 15, un paio con l'Under 17, quindi anche con le nazionali. Pensiamo a finire la stagione agonistica fino a fine luglio, dopodiché vedremo il da farsi.